Siamo orgogliosi di presentarti il futuro della consulenza ottica, un'esperienza che eleva la precisione e la personalizzazione a nuovi livelli straordinari. L'innovazione tecnologica si fonde con la precisione nel mondo dell'ottica grazie al rivoluzionario dispositivo Zeiss VisuFit 1000, che rappresenta l'apice della digitalizzazione nel settore. Noi di Ottica Viewpoint, Zeiss Vision Expert, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti questa tecnologia all'avanguardia. Ma cosa rende il Zeiss VisuFit 1000 così speciale? Scopriamolo insieme. Precisione ineguagliabile. Il Zeiss VisuFit 1000 è un sistema destinato alla determinazione digitale dei dati di centratura digitale 3D, per posizionare al meglio le lenti di tutti gli occhiali, monofocali o progressivi, davanti ai tuoi occhi. Fornendo un'accuratezza senza paragoni. Dimenticate i fastidi iniziali delle lenti progressive. Con VisuFit 1000, l'adattamento è assicurato, rendendo l'esperienza visiva più nitida e rilassante che mai, sin dai primi momenti. Il processo di centratura e selezione della montatura diventa un'esperienza digitale completa. Con un solo scatto, vengono create immagini 3D del volto del cliente. Utilizzando ben nove telecamere, rendendo l'esperienza non solo precisa, ma anche rapida e semplice. Un'esperienza di acquisto coinvolgente. Il Zeiss VisuFit 1000 non si limita a fornire dati di centratura digitale precisi, trasforma l'intero processo di acquisto in un'avventura digitale. Ogni nostro cliente può provare virtualmente diverse montature, compararle e scegliere quella che preferisce con una chiarezza mai vista prima. Questa tecnologia offre una nuova prospettiva, soprattutto per i clienti con forti ametropie, che altrimenti avrebbero difficoltà a vedersi con le nuove montature davanti allo specchio. Un futuro digitalizzato. Con il Zeiss VisuFit 1000 stiamo guardando al futuro. Il dispositivo non solo digitalizza il processo di centratura digitale, ma crea una piattaforma per futuri moduli digitali, inclusa la prova virtuale e la personalizzazione delle montature. Questa è una promessa di ulteriori innovazioni che continueranno a migliorare l'esperienza dei nostri clienti. Noi di Ottica Viewpoint di Reggio Calabria siamo sempre alla ricerca delle migliori tecnologie per fornire ai nostri clienti servizi di ottica di alta qualità. Con il Zeiss VisuFit 1000 eleviamo il nostro servizio a un nuovo livello di eccellenza, offrendo una precisione, comodità e un'esperienza di acquisto emozionante. Scoprite la rivoluzione della centratura digitale personalizzata presso il nostro negozio e vivete un'esperienza ottica come non mai. Visitateci oggi per scoprire di persona la magia del Zeiss VisuFit 1000. L'innovazione ci guida verso il futuro, e siamo entusiasti di condividere questo futuro con voi.